Salve a tutti amici youtube, faccio questo video molto velocemente volevo soltanto dirvi che il Dark Desire Team ha aperto un nuovo canale quindi non caricherà più video su questo canale un attimo per assicurarci questo ecco qui, non caricherà più video su questo ma su questo nuovo canale che lascerò in descrizione, il link sarà lasciato in descrizione e nei canali suggeriti sketch ovviamente caricherà qui nuovi video eventi futuri del mio canale penso apertura di 10 bustine della nuova espansione Alleanza dei Duellanti e probabilmente in futuro un Megateen vabbè detto questo ragazzi niente, lasciate un mi piace, un commento iscrivetevi al canale, arrivederci al prossimo video